Abbiamo ampiamente superato la maggiore età, quindi credo che sia in grado di valutare qual è l'elemento più utile per il futuro del centro-sinistra. E io penso che l'elemento più utile per il futuro del centro-sinistra sia quello di costruire un processo militare. Rete d'Eme è stata fondamentale nella battaglia politica che abbiamo combattuto per provare a dare una svolta politica al PD e continueremo in questa direzione e per questo Rete d'Eme sarà un soggetto importante per questo lavoro.